Noi stiamo investendo moltissimo su tutto quello che è innovazione, sull'intelligenza artificiale intesa come persone esperte, giovani esperti che entrano nei processi sia di innovazione di prodotto che in generale di gestione dell'azienda con dei risultati molto importanti. Il futuro è lì, investimento sui giovani collegando le competenze di persone esperte con dei giovani che hanno capacità fantastiche di dare un valore aggiunto. Credo che l'Africa è fondamentale, come si è detto oggi non abbiamo materie prime, abbiamo bisogno di avere un rapporto costruttivo, non dobbiamo subire un'immigrazione che è terribile per le persone che sono costrette a fare questi viaggi che sono talvolta drammatici. Sediamo del lavoro, costruiamo delle professionalità e possiamo anche avere delle capacità di lavoro formate per le esigenze che abbiamo noi. Quindi c'è un interesse di tutti, io credo che sarebbe importante farlo anche con un grosso contributo europeo, ci vogliono risorse importanti, l'Italia sta andando nella direzione giusta.